salve a tutti benvenuti bentornati come sempre vi invito a iscrivervi lasciare un like condividere commentare e oggi una recensione che viene dal passato proprio perché guardando su tik tok alcuni video mi è uscita una considerazione che non molti hanno fatto inerente a un film quindi questa è una recensione recensione dal passato del film soldati 365 giorni all'alba di marco risi del 1987 che racconta la storia del servizio militare di leva dalla prospettiva di alcuni ragazzi che vanno a svolgerlo e troviamo tantissimi attori tra l'altro emergenti di guagliani c'è un bellissimo claudia mendola addirittuale stando benvenuti e poi c'è massimo da porto che è il coprotagonista del film che interpreta il ruolo del tenente fili un tenente molto autoritario e anche in alcuni casi particolarmente diciamo esaltato perché mi ne voglia di fare una recensione su questo film dal passato perché c'è stato qualcuno su tik tok che ha pubblicato una scena una sequenza di questo film c'erano una serie di commenti su quanto fosse bello il servizio militare su come non ci fosse un certo tipo di problemi sociali all'epoca rispetto oggi sono tutte quante banalità e poi i luoghi comuni rispetto onore patria quando era possibile fare il servizio militare non c'erano certe cose invece c'erano altre in realtà il film viene identificato come un grande film di esaltazione militare ma in realtà quel film ebbe dei grandi problemi militari per la realizzazione non è mai stato visto di buon occhio dalle autorità militari che addirittura ne hanno ostacolato la realizzazione addirittura si è dovuto arrivare a mettere sulle divise una stella a sei punte invece che cinque che è caratteristica delle divise militari italiane e il film affronta un argomento molto delicato dell'epoca ma ancora oggi oggi di meno perché ci sono i militari di professione ovvero il nonismo che è stato un problema molto molto grave e lo è ancora nell'ambito militare quando il gruppo diventa branco d'accordo la recensione è finalizzata a farvi vedere questo film è molto interessante guardatelo con occhi critici io do una recensione di 4 stelle su 5 è ben realizzato ma soprattutto focalizzatevi su quello che è l'aspetto degli abusi e del nonismo e non non esaltazione militare